La venticinquesima edizione del Premio Nazionale Paolo Borsellino ha fatto tappa anche a Giulianova. Gli alunni dell'Istituto Comprensivo 1 hanno incontrato il generale Angelo Pellegrini, comandante dell'anticrimine dei Carabinieri di Palermo, uomo di fiducia di Giovanni Falcone Paolo Borsellino, uno dei protagonisti indiscussi di uno spaccato storico e sociale degli anni difficili della criminalità organizzata nel nostro paese. E' autore del libro Noi gli uomini di Falcone, la guerra che ci impedirono di vincere. Io continuo a ritenere essenziale poter andare nelle scuole, incontrare i giovani, coloro che saranno poi gli uomini, i dirigenti, i professionisti del domani e presentare il libro, raccontare la storia di quello che è successo in Italia, la storia della mafia, la storia della mafia a cui nessuno credeva e poi si dimostrò che esisteva, in effetti esisteva, dopo il maxiprocesso, raccontare quanti uomini e quante persone hanno perso la vita per portare avanti un ideale di giustizia, di legalità, in modo che i ragazzi sappiano che dipende molto da loro se il futuro in questo bel paese che è l'Italia sarà diverso da quello che è stato negli anni 90. I ragazzi apprendono, i ragazzi seguono, i ragazzi si sentono entusiasti, vanno responsabilizzati. Va detto ai ragazzi che quando scelgono una strada è inutile che cerchino le scorciatoie, dico sempre ai ragazzi che devono avere il coraggio di andare avanti con le proprie forze, e non andare a bussare mai alle porte di qualcuno come veniva fatto allora e come viene fatto ancora oggi perché quando si bussa alla porta per far valire anche i propri diritti si diventa schiavi di queste persone. La nostra scuola è sempre stata molto sensibile ai temi della legalità. La partecipazione a questo progetto, a questo incontro, rientra comunque nell'ottica di un'educazione alla cittadinanza permanente che per noi è molto importante e poi incontrare un personaggio come il generale sicuramente sensibilizzerà ancora di più i ragazzi a questo tema che deve rimanere comunque sempre nelle coscienze. Un incontro importante con i ragazzi un po' più piccoli affinché apprendano i sacrifici che sono stati fatti da questi grandi uomini, li facciano propri e continuino a camminare sulle loro gambe le idee di questi grandi uomini.